Eccoci qua tornati Analisi del colore verde Come dicevamo alla fine della prima parte Iniziamo appunto con i leader Questo è un leader molto forte Che ho già visto giocare Di cui ho un paio di idee per qualche masso Ed è sicuramente un leader che proverò Oltre a baby ovviamente Ma quello neanche se ve lo sto a dire E' un leader molto particolare Però che secondo me potrà avere molto spazio Quando attacca peschiamo Una volta per turno Quando una nostra carta attiva revive Che è un'altra meccanica Una nuova abilità delle carte blu-verdi Peschiamo uno Quando siamo a quattro Peschiamo una carta Svizziamo l'energia Da Wakenato Praticamente fa le stesse cose Solo che Con l'abilità del revive Peschiamo due E Una volta per turno Scegliamo una nostra carta blu-verde Multicolor La mettiamo Cioè in rest mode E fino alla fine Della prossima main phase Quando questa carta È in rest mode I nostri opponent Non possono Attaccare la nostra leader card Quindi Sostanzialmente andrà a dare Una deadly defender A una delle nostre carte Questo perché Perché Poi appunto Con l'abilità di revive Noi potremmo Rimportarle in campo E andare a pescare due Quindi è Molto forte Molto particolare Ma molto forte Poi abbiamo Dr. Hero E Dr. Cocking Questo è un mazzo Probabilmente for fun Ma è sicuramente Un mazzo Che andrò a provare Non ve lo nascondo Perché Questo laboratorio Tutte le cose La meccanica delle fill Mi piace un casino Ovviamente Ti fa iniziare Con i laboratori Del Dr. Hero In campo Quando questa carta Attacca una carta leader Guardiamo le prime sette carte Del deck Scegliamo un Frenzy Warrior E lo aggiungiamo A nostra mano Quando abbiamo Quattro energie E la nostra vita È tre o meno Possiamo scegliere Due energie E switcharle E metterci in Awaken mod In Awaken Quando attacchiamo Peschiamo E una volta per turno Scegliamo una carta Nella nostra mano La mettiamo nella drop area Scegliamo una keyword skill In una delle Battle card dell'avversario E la neghiamo Per la durata del turno Quindi potremmo andare A togliere blocker Potremmo andare a togliere Magari anche solo revenge Se il Dr. Hero Lab Nella nostra battle area Ha 17 o più carte Sotto di esso Vinciamo la partita Adesso vi farò vedere Che cosa comporta ciò Carte Così forti Delle Della nostra parte verde Ve le farò vedere Poche Una cosa che voglio farvi vedere È una meccanica Che funziona Col nostro Bellissimo Leader androide Che è questa Questa carta dice Auto Se è il tuo turno Scegli un clone token Nella opponent battle area Rimuovilo dal gioco E questa carta Quando combi con questa carta Questa carta Prende più 5000 combo Per la durata del turno Quindi ci darà A fare Una sorta di super combo Uccidendo un clone token Nella Nella battle area Del nostro avversario Cosa sono questi clone token? Ve lo spiegherò dopo Questi clone token Sono appunto Una delle meccaniche Di gioco Di questa Che poi non è proprio Una meccanica In realtà Però è una delle peculiarità Diciamo Di probabilmente Il meta Che si andrà a creare Con questa espansione Tutte appunto Tutte le carte Funzionano così Una carta Su cui vorrei Soffermarmi un attimo È questo piccolo Perché A deflect È un costo 4 A bond 3 Quindi Se ci sono altre 3 Battle card Si attiverà Quando giochi questa carta Il tuo opponent Sceglie due carte Dalla sua mano E le mette Nel laboratorio di Uiro Sotto il laboratorio di Uiro Oppure il tuo opponent Sceglie due carte E le warpa È una carta molto forte Che si può giocare Sia nel mazzo di Uiro Per accelerare Le 17 carte Sotto il laboratorio Che Anche da solo Per far warpare Il nostro avversario Quindi è una carta Bivalente E abbastanza forte Questo long Carino Fighissimo Questa è una delle carte Su cui voglio Soffermarmi Perché è una carta Che ci permetterà Di Di fare value Sul board Perché Perché Quando questa carta Viene messa Nella dropparia Della nostra mano Vai Da una Da una card skill Cioè da un'abilità Di una battle Di una battle card Lo possiamo giocare Gratis Abbiamo un active Eggman Che dice Paga uno Metti questa carta Della dropparia All'war Carta dalla mano Della tua mano E mettila Nella dropparia Scegli una carta Una battle card Del tuo avversario Con costo 3 o meno E mandala a KO È una carta molto forte Che ci fa control board Dalla dropparia Ci farà scartare uno Per carità Però è una carta Molto forte Oltretutto Che può entrare gratis Quando viene scartata Quindi ulteriormente È una carta ulteriore Che può essere ciclata With Nulla di che Iniziamo con le carte Dell'androide Questa è una carta Ad esempio Molto forte Nella nostra meccanica Androide Perché quando la giochiamo Attiviamo un'auto Che è quella Che vi spiegavo prima Cioè mettiamo in campo Due clone token Nel terreno Dell'avversario Questo perché Perché la meccanica Tutte le meccaniche E le carte Del mazzo Sostanzialmente Android 21 Andranno a funzionare Con i clone token Dell'avversario Appunto Questa carta Poi ha Un activate main Che una volta per turno Possiamo scegliere Un clone token Nella Del nostro avversario Per poi fare Un effetto In questo caso Andremo O a distruggere Una Una battle card Dell'avversario Oppure A scegliere Un nostro leader Card O battle card E dargli P10.000 Critico Quindi è una carta Molto forte Che Col passare dei turni Bisognerà stare attenti Solo al numero di clone token Che gli andremo A dare al nostro avversario Perché comunque i clone token Sono dei 10.000 Che possono attaccare Non possono essere combatti Perché non hanno combo power Però Sono carte molto forti Questa è una carta Per il dottor Uiro Una serie di carte Per il dottor Uiro Sono tutte carte Sostanzialmente Che Ti fanno giocare O i friends at warrior Che sono queste Questi scagnozzi Sostanzialmente Oppure Che ti fanno a dare Carte sotto il laboratorio Di Uiro Ad esempio Questa dice Quando la giochi Peschi 1 Scegli una carta Questa carta È una carta verde Nella tua mano E mettila nella tua Drop area Quando Il tuo opponent Sta attaccando Nega l'attacco Questo dottor Cochin Che fa parte Sempre della meccanica Del laboratorio Dice che può essercene Solo uno Nella tua battellaria E riduci Il costo Di tutti i tuoi Friends at warrior Nella tua mano Di uno Quindi Molto forte Quando giochi questa carta Guardi 7 carte Scegli un friends at warrior E lo aggiungi in mano Poi scegli un friends at warrior Nella tua mano Con energy cost 2 Meno E lo giochi Quindi ci andrà a fare dei plus I friends at warrior Appunto sono questi Ognuno ha Un vario effetto Ad esempio Quando giochi questo Prendi la prima carta Del deck La metti sotto Il laboratorio di Uiro Quindi molto forte E poi peschi 1 Il dottor Uiro lab Ve lo faccio vedere Alla fine Eccolo qua E' questo E' una field Costo 6 Ma la cosa non ci preoccuperà Perché tanto noi Andremo a giocare Inizio partita gratis Che dice Permanent Your battle car Can be switched to rest mode Quindi fortissimo Le nostre battle car Non potranno andare in rest mode Per effettivare Il nostro avversario Puoi ovviamente Usare solo carte Blu o verdi Per posizionare carte Sotto questa carta E E questa carta Soprattutto Non può essere Rimosso dal gioco Questo perché? Perché Essendo la win condition Del Del mazzo E non essendo Una win condition Così facile da risolvere Ovviamente Costando 6 Se l'avversario Dovesse poi Andarcela a distruggere Sarebbe un problema Perciò Questa abilità Secondo me ci sta Ha un activate main Pagando 2 Scegliamo una Opponent battle car Con un energy Costo di 4 o meno E la mettiamo sotto Questa carta Quindi molto forte Anche questa è una meccanica Che ci aiuterà appunto A risolvere prima La nostra win condition Ma Non sarà Ripeto Non sarà così facile Arrivare a farla Continuiamo con le carte verdi Super combo Altro Friends of Warrior Blocker Questa volta Quando questa carta Usa Blocker Metti la prima La prima carta Del tuo deck Sotto il laboratorio Di Vivi Rock Come vedete appunto La meccanica sostanzialmente È quella di arrivare A 17 carte E Ogni Ognuna di queste Di questi Friends of Warrior Servirà A portare una carta Che lo fa Oppure a farlo Di per sé Abbiamo poi Un'extra card Che è The Android Creator E Il Rise of Your Hero Sono sempre carte Che aiutano Questa meccanica Altra carta verde È questa Focus Breakthrough Questa è la Counterplay verde Quindi mi soffermo Un attimo Cosa fa questa carta? Ovviamente Se il tuo leader È verde E la tua vita È 4 o meno Se è la carta Dell'avversario Che 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 il tuo avversario Sta giocando Costa 3 o meno Viene messa Nella drop area È una Sorta di sostituzione Preemptive Strike Che però Fa su costo 3 Può essere giocata Anche con le vite È un Si barra no Perché comunque È una carta molto forte Però Bisogna vedere appunto Lo spazio che uno ha Quindi la scelta Di building del deck Non è Proprio cosiddetto Che ci possa stare In tutti i mazzi verdi Perfetto Carte blu verdi Forti Mi soffermo Su questa È appunto Una delle carte Con revive Che andremo a giocare Nel nostro mazzo Rosso blu Scusate Blu verde Di Di Goku Perché Perché Ha revive Appunto Revive Che cos'è Revive è un'abilità Che Appunto Ci darà due colori Come costo Che sono il blu e il verde Ovviamente Perché la meccanica È blu verde E ci dice che Possiamo Dalla nostra mano Piazzare Nella nostra drop area Carte che Matchino Con il colore Dall'abilità Revive richiesta Quindi in questo caso Blu e verde E quando questa carta Viene messa KO La rigiochiamo Con le sue Skill Negate Per il resto Del turno Quindi noi Andremo a Non perdere La nostra carta Perché la Rigiocaremo In campo Avrà per carità Le sue skill Negate Quindi Non potremmo Usarle Però allo stesso Tempo Cosa succederà Potremmo Avere più Engine Rispetto al nostro Leader Quindi Con il nostro Leader Andremo a Pescare Ulteriormente E poi Perché no Potremmo Comunque Con la nostra Battle Riattaccare O fare Comunque Altre cose Oltretutto Questa Battle In particolare Ha un Activate Battle Particolare Una volta Per turno Pagando Due Questa carta Prende più 10.000 Triple strike Quindi è una carta Che il nostro avversario Dovrà sempre Tenere sott'occhio E della quale dovrà Valutare appunto Come negare L'attacco Perché nel momento In cui noi avremo Energy open E andremo ad attaccare Con questa carta L'avversario Dovrà Pensare Che noi potremo Avere in campo Un 25.000 Triple strike E non un semplice 15.000 Quindi è una carta Molto forte Altra carta Molto forte Per me è questa Questa sarà Una delle più forti Probabilmente Del nostro meta Di questa espansione E come meccaniche Di gioco Di sviluppo Eccetera E' una carta Che ha barrier Quindi non potrà Essere rimossa Salvo Ignorando barrier Eccetera Quindi è una carta Che ci permette Di tenerla in campo Abbastanza Sia con l'abilità Del nostro leader Che appunto Di per sé Perché gli andremo A dare Deadly defender Chiamiamola così Come abilità E Avrà barrier Anche Survive Quindi Una volta che Il nostro avversario L'avrà attaccata Perché dovrà attaccarla Per forza Perché noi Con il nostro leader Avremo attivato La nostra abilità L'avrà uccisa A noi tornerà in campo Quindi il turno dopo Noi potremmo ancora Usarla Perché Perché questa carta Ha un auto Che dice che Quando attacchiamo Il nostro opponent Sceglie una carta Della sua mano E la mette Nella sua tropparia Quindi scarta 1 È una carta molto forte Che andrà ad aiutarci A creare una differenza Seppur poca Di mano Che in questo gioco È una cosa molto importante Soprattutto Quando andremo a giocare Contro dei matchup Come il Rosso-giallo Che pescano tantissimo Fargli scartare una carta Potrà essere Ogni tanto Un plus Non indifferente Altra carta molto forte Appunto È la nostra energia bicolor Android 17 Classica Non c'è nulla Di importantissimo Che faccia questa carta Android 16 Prima di dirvi Di parlarvi di queste carte multicolor Andrei sul blu Perché Perché quella Quella parte di carte Andrà in sinergia In funzione Del nostro mazzo Dell'Android 21 Quindi Prima vi parlo Di quella meccanica E poi vi riparlo Di questa carta Leader blu Iniziamo dai leader C18 Bellissima E 18 Questa è l'edizione Dei leader Che non avevamo ancora E che mancavano Un po' Sostanzialmente Meno importanti Diciamo così Auto Quando giochi questa carta Scegli uno schema Dell'Android 21 Dal deck E lo attivi È un'altra field Che dopo vi farò vedere Activate main Once per turn Quindi una volta per turno Scegliamo un clone token Nel nostro opponent Battle area Lo rimuoviamo dal gioco Peschiamo una carta E scegliamo una carta Della nostra vita E l'aggiungiamo Alla nostra mano Poi scegliamo Un opponent battle card Con energy costo 1 E la facciamo ritornare In mano al nostro opponent Non è un'abilità Fortissima Però è un'abilità Che ci permette Di poter fare Un più 2 Un pescaggio di più 2 Una vita È una carta Dalla Dal nostro deck Quindi è un engine Di pescata Molto forte Molto forte lo stesso Il nostro awaken Sarà con 4 vite Pescando 2 carte Perciò Questa carta È decisamente Fotta per quanto riguarda Il potere di mano Da awakenata Quando attacca Peschiamo 1 E farà la stessa cosa Cioè scegliamo Un clone token Dal board dell'avversario E lo rimuoviamo Dal gioco Scegliamo Una opponent battle card Con energy costo 1 La facciamo ritornare In mano E poi Riduciamo il combo costo Di tutte le nostre Blue E green Battle card Nella nostra mano Di 1 Per la durata del turno Quindi fa un po' Ciampa e Vados Per un nostro Eventuale attacco finale Molto forte Appunto È bivalente Questa abilità È fortissima In attacco E ci permetterà Appunto Di chiudere Più facilmente Android 21 Android 21 È l'altro leader Che c'è sia Nello starter deck Che nell'espansione Ora Di mio Probabilmente Preferisco Quello dell'espansione Piuttosto che Quello dello Starter deck Per una semplice Questione Del fatto che Lo trovo Un po' Più sinergico Tutto lì Anche questo Quando viene giocato Ci fa attivare L'android Lo schema Dell'android 21 Activate main Ovviamente Sempre la meccanica Di scegliere Un token Dalla board Dell'avversario E rimuoverlo Dal gioco Reschiamo 1 E scegliamo Una battle card Dell'avversario Con costo 1 Lo facciamo ritornare Nella sua mano Fino a rì Come c18 Ma Ma Questa carta Invece farà Un altro effetto Dopo che avremo Fatto questa cosa Sceglieremo Una nostra Energy multicolor E la switcheremo In active Quindi è una carta Molto forte Perché potrà Permetterci Di giocare più carte Per quello che la preferisco All'altra Ovviamente Awaken Sempre a 4 vite Una volta Awakenato Non avremo più L'abilità Di quando attacca Pesca Avremo un activate Main Sempre Sempre con i clone token Che dice Pesca 1 Scegli una opponent Battle card Con energy cost 1 Ritornala Poi All'inizio Del suo opponent Next main phase Choose up to 1 Blue green multicolor Carling energy In energy area E switch to active mode Questa ci permetterà Di rimanere sempre Aperti in difesa Carte blu Di cui mi vorrei Particolarmente Soffermare E parlare Sono L'android 18 Che ci sarà anche SPR Perché? Perché questa è una carta Appunto una delle carte Molto forti Blue Che cosa dice? È un costo 1 Quindi è una carta Che potremmo giocare subito Quando lo giochiamo Guardiamo fino a 5 carte Dalla cima del nostro deck E scegliamo una carta Androide Blu o verde E la aggiungiamo Alla nostra mano Quindi ci andrà a fare Un sercino E ci andrà Appunto a cercare Quelle carte Che ci servono per La situazione di controllo Che vogliamo avere Sul mazzo Prettamente sarà appunto Un mazzo molto control Questo La meccanica Blu verde Perché appunto Rimuovendo tutti Quello con token Andremo a rimbalzare creature Dare dei meno O dare dei più Anche a noi Per carità Però tendenzialmente Più una meccanica control Quando giochi questa carta Attiva questa abilità Alla fine del turno Puoi scegliere Una blue green energy Multicolor Nelle tue energie Fartela ritornare In mano Se lo fai Scegli una carta Nella tua mano E mettila nella tua Energy area In rest mod Questo perché? Perché questo mazzo Sarà un mazzo particolare Che ci farà rampare Il ramp È una meccanica Che noi abbiamo già visto Con gogetta blue Promo Che però era stata Sviluppata In funzione del Vecu Perché Vecu Diceva che quando veniva Messo KO Rimosso da una Un'abilità Del nostro avversario Prendeva le prime due carte Dalla cima del mazzo E ce le metteva Nelle nostre energie La meccanica di questo mazzo Sarà più o meno simile Continuerà a farci switchare Energia O a mettere energie In campo Android Ad esempio Sei il tuo leader Card Android Quando giochi questa carta Pesca uno Poi alla fine del turno Gioca un clone token Per l'avversario Questo ci fa Riattivare il nostro Il nostro schema La nostra field Che sarà una carta fondamentale Perché Adesso ve la Ve la faccio vedere Eccola qua È una field Che una volta per turno Quando tu Ho un tuo Opponent Giocato Una non token battle card Non può attaccare Quindi Questa carta Sarà fondamentale Perché Perché Ci permetterà Di Non far aggrare Il nostro avversario O meglio Il nostro avversario Dovrà scegliere bene Quale prima carta Giocare nel suo turno Perché ovviamente È una È un'abilità automatica Perciò si attiverà Sul primo battle card Che andrà a giocare Ed è una volta per turno Ma ciò farà sì Che in determinate situazioni Il nostro avversario Dovrà sprecare energie Per giocare qualcosa Prima del suo Pezzo vero Che vuole giocare nel turno Quindi una carta molto forte Quando giochi Una battle card Nera La La giochiamo La mettiamo Nella nostra Drop area Tendenzialmente Non Non giocando Battle card nere Probabilmente Nel mazzo Non ci farà quasi nulla Se vogliamo giocare Degli over realm O il fu Ad esempio Il fu Probabilmente lo giocheremo Sappiate che in quel turno Poi dovremmo dire Ciao al nostro Schema androide E L'abilità importante È l'ultima All'inizio Dell'opponent main phase Gioca due token Nella sua battle area Questo è quello Che ci permetterà Di Poter far avere Al nostro avversario Sempre clone token Senza dover giocare Noi pezzi Che glieli danno Oppure Da poter Da poter distruggere Un'altra carta Per Dottor Weero Su cui voglio Soffermarmi un attimo È questa Se volete giocare Dottor Weero Questa sarà La vostra carta Sostanzialmente Più forte Blocker Deflect Costo 6 Quando la giochiamo Prendi Le top 6 carte Del deck E le metti Sotto Weero Lab Quindi sarà Un engine Molto grosso Per il nostro lab E probabilmente È la carta Che ci andrà A far chiudere Oppure L'altra abilità È Scegli 6 carte Da droppare E le metti Sotto il laboratorio Di Weero Quindi O da una parte O dall'altra Dipende un po' Quante carte Abbiamo nel deck Una volta per turno Quando questa carta Attiva Blocker La possiamo riswitchare In Activant Essendo un 25000 È una carta Molto forte È una carta Che ci servirà Appunto Per la meccanica Del Una carta abbastanza forte Può essere questo Sell Per la nostra Meccanica Rosso Blu verde Scusate Del Dei token Perché A critico È un 15000 Activate main Scegli 3 token Dalla battle area Del nostro Avversario Rimuoveli dal gioco E gioca questa carta Quindi noi andremo A giocare a gratis Togliendo 3 token Dalla battle area Del nostro avversario Per di più Avremo un 15000 Critico Quindi Sarà molto importante Appunto Questa meccanica Dei clone token Con queste carte Altre carte Importanti Appunto Sono l'altro Androide Che abbiamo Già visto Abbiamo Appunto La counterplay Blu La counterplay Blu Cosa dice Se il tolide Card è blu La vita È sempre A 4 o meno Come tutte Le counterplay Costo 1 Di questa Espansione Se la carta Che il nostro Avversario Sta giocando Costa 3 o meno Viene rimbalzata In mano Invece che Essere giocata Fa tipo Il nostro Counterplay Di BT7 Di Assault Of The Cyan Blu Con il costo 3 Invece che 4 Molto semplice Anche questa Può essere Attivata Con le vite Se abbiamo Una multicolor Quindi è una carta Abbastanza forte Perché i costi 3 forti In questa espansione Ce ne sono Perciò La vedo Abbastanza utile Torniamo un attimo A quelle che erano Le multicolor E Passiamo appunto A Android 16 Che sarà anche lui Una versione SPR Della carta Che è una carta Costo 2 Che ha Energy Exhaust Se hai Un'energia multicolor In campo Quando giochi Questa carta Metti La prima carta Del tuo deck Nell'area Delle tue energie In rest mod Non puoi più giocare Battle card Che hanno Power 30 O 35.000 For the duration Of the game Può sembrare Una Diciamo Una Un malus Enorme Se non fosse che Il nostro mazzo Androide Non ha carte Che superano Quel power Perché come Andiamo a vedere La nostra Diciamo Chiusura Il nostro costo 8 La nostra carta Più forte Ha 25.000 power Quindi non andremo A influenzare Più di tanto Il nostro Le nostre giocate Oltretutto Rampando Andremo a poterla Giocare Prima Questa carta Ha triple attack Quindi andrà a fare 3 attacchi Che possono essere Poi appunto Potenziati Da Ciampa Da tutta una serie Di carte Oltretutto Anche perché Questo Essendo Un androide Può Suffrire Del nostro Double strike Di Bt5 verde Deflect Quando giochiamo Questa carta Scegliamo Tutte Le carte E Le energie Non multicolor Del nostro Avversario Ignorando barrier Gli neghiamo Le skill E le facciamo Ritornare Nel deck Questa È una Vratta Incredibile Se non fosse Che la maggior Parte Delle carte Che noi Andremo a giocare Sono multicolor Quindi ci troveremo Nella situazione Nel quale Noi rimarremo Sì con meno Carte Ma con Tutte quelle Che ci servono Il nostro Avversario Probabilmente Se non ha Un mazzo Che per la Maggiore Parte Delle carte Composte Da carte Multicolor Si ritrova Probabilmente Con 2 Barra 3 Energie Massimo E nessuna Battecar Quindi è una Carta Molto 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 Forte Oltretutto Se le carte Se le energie Multicolor Del nostro Avversario Sono in Rest Mod Il nostro Avversario Magari Non se lo Aspettava E non potrà Poi nemmeno Attivare Counter Sui Nostri Attacchi Quindi è Un ulteriore Value Un'altra carta Per Dottor Hero E concludiamo Con la nostra Secret Ho discusso Di questa Carta Parecchio Con Mattia Con Filippo Con gli altri Perché Secondo me È un po' Cioè La sua Bivalenza Perché può essere Giocata sia Come attacco Come difesa Con questa Carta Probabilmente Secondo me Potrà avere Più senso In difesa Ho visto Dei game In America Praticamente Mi hanno già Smentito Perché è fortissima Sarà Sia in attacco Che in difesa Però io La dovrò provare Perché non ne sono convinto Al 100% Al contrario Della Secret Baby Che reputo Fortissima Questa Bene o male Sì e no Sì e no Secondo me Poi Sarò smentito Sicuramente Però vedremo Ovviamente Ultimate Arrival Brew Green A 3 blu E 2 verdi Quindi costo 5 Arrival Cosa fa Quando entra Con Arrival Quando la giochiamo Possiamo scegliere Cioè Non è che possiamo scegliere Se è il nostro turno Questa carta prenderà Critical E Triple Attack Quindi noi avremo Un 40.000 Critico Triple Attack Ma Ma Se è il turno Dell'avversario Noi andremo a scegliere Una carta del nostro avversario Ignorando barriera Quindi senza nessun Tipo di limitazione La metteremo Nella drop area E andremo a prendere Due carte Dalla cima Del nostro deck Che le metteremo Nelle nostre energie Questo è quello È il motivo per cui Io personalmente La reputo più forte In difesa Perché Non ha nessun tipo Di limitazione Sulla carta Che noi andremo a scegliere Quindi può essere La chiusura dell'avversario Una carta Che su cui è stato combato 500.000 di power Noi andremo a giocare La nostra secret Prenderemo la carta La metteremo in droppare E in più Andremo a farci Due energie Per continuare A poterci difendere Per eventuali Altri attacchi O cose Quindi per me È fortissima In difesa In attacco Ovviamente Con un ciampa Viene Cioè Viene messa in rest Mod E il nostro triple strike Cioè il nostro triple attack Rimane un po' lì Quindi Non so Non ne sono Completamente convinto Per quanto riguarda Invece Appunto Lo starter deck Abbiamo L'altro android E 21 Che dice Che Quando questa carta Attacca Peschiamo uno Se hai Un'energia Blu Blu verde Multicolor E la tua vita È a 6 o meno Puoi pescare una carta E switchare un'energia E awakenare Quindi ci awakeneremo Prima rispetto All'altro leader Però Non puoi giocare Battle card Con un original cost Di 6 o più Quindi la nostra chiusura Il nostro cost 8 Non potremmo giocarlo È un'abilità Un po' così Dice Auto Una volta per turno Quando una carta Nella sua Viene piazzata Nella tua energia In your energy Splash In your drop area Viene mandata Dall'energia Alla drop area Tramite un'abilità Peschiamo uno Poi scegliamo Una blue green Multicolor card Nella nostra drop area E la aggiungiamo Alle nostre energie In respawn Alla fine All'inizio Del turno Del nostro Oppodent Andremo a mettere Un'energia Blu Verde In Multicolor In active mode È una carta Che ti fa rampare Di più Però allo stesso tempo Ti dà un po' Più di limitazione Quindi io preferisco L'altra Però Le carte dello starter Saranno Androide 17 Androide 18 E Androide 16 Oltre a questa Queste due extra Card E altre Due o tre carte Che sono molto forti Principalmente La carta Diciamo Più utile Le carte Più utili Saranno Assolutamente Questo androide 21 Che è un blocker Quando la giochi Guardiamo Sette carte Dalla cima Del mazzo Scegliamo una carta La mettiamo In energy In rest mod E poi mischiamo Scegliamo Una carta Del nostro Opponent Del nostro Opponent E la mandiamo A KO Non possiamo giocare Carte con 30.000 35.000 Ovviamente Sempre Quello Di app Però Non sarà Un problema Per noi Però Questa è Una delle carte Più forti Perché Ci aggiunge Un'energia E in più Fa KO Su una carta Predation Anche Una carta Abbastanza Forte Costa 2 Activate Main Pesca Due Carte Scegli Una Battle Card Del nostro Avversario Con Energy Costo F1 E che Facciamo KO Può essere Un peschino Può essere Abbastanza Versatile Poi abbiamo Android 21 Bedomen A costo 5 Possiamo Giocarla Comunque Dalle nostre Energie Perciò Potrebbe Essere Una Sorta Di Sorpresa Scegli Una Carta Delle Nostre Energy La Metti Nella Drop Questo Va In Funzione Di Questo Leader Dello Starter Io Reputo Più Forte L'altra Questo Invece Anche E' Molto Utile A Revive Erage Exaust Come Tutte Le Giocato Giocato Gratis Abbastanza Forte Questa Anche Una Extra Card Utile E' Una Extra Card Costo Uno Che O Ci fa Pescare Uno Oppure Scegliamo Un'energia Multicolore Blu Verde Dalla Nostra Area Delle Energie La Aggiungiamo Alla Nostra Mano Poi Rimuoviamo Questa Carta Dalla Nostra Drop Area Dal Gioco Scegliamo Una Carta Nella Nostra Mano Nella Nostra Energy Quindi Possiamo Andare A Riciclarci Delle Carte Che Magari Avevamo Chargiato Che Ci Possono Servire Adesso Che In Early Game Non Ci Servivano Ma Che In Late Game Possono Fare La Differenza Sostanzialmente E' una Carta Che È Tenere E' Un Mazzo Che Ha Praticamente La Flying Nimbus Perenne Perché Quando Una Battle Card Attacca Il Player Che Ha Attaccato Sia Per Te Che Per Il Tuo Avversario Ovviamente Non Può Attaccare Più Con Token O Battle Card Che Hanno Un Energy Costo Di 7 O Meno Quindi Noi Dovremmo Andare A Scegliere Bene Con Cosa Attaccare Prima E Con Cosa Attaccare Dopo È Un Mazzo Che Ho Visto Giocare Contro Baby E Anche Contro Aggo Resiste Peramente Tanto La Sua Awaken È Un Po' Così Perché Dice Che Se Hai Una Black Card Nella Energy Scegli Tre Carte Sotto Questa Carta E Le Metti Nella Drop Area Poi Pescare Uno E Girare Quindi Non Ha Un Awaken Fantastica Però Comunque È Un Mazzo Molto Forte Abbiamo Appunto L'Activate Main Once Pertone Prendi La Prima Carta Del Tuo Deck E Mettila Sotto Questa Carta Machini Uno E Peschi Uno Non Ha Engine Di Pescata Con Gli Attacchi Però Comunque È Una Carta Molto Forte Da Carta Nere Devastanti Quindi Non Sarà Un Problema Abiliare Il Mazzo Tutto Nero Quando Una Batta Il Carta Attacca Sempre Quella Stasori Del Sette O Meno Quando Questa Carta Attacca Prende P5000 Power Federation Of The Tour E Peschi Uno Questa Volta Avremo Un Engine Di Pescata Molto Forte Perché Attaccheremo Diventeremo Un 20.000 E Pescheremo Uno La sua Super Rara La sua Carta Forte Che c'è Anche In versione SPR E Questo Hachac Può Essere Usata Sia Come Chiusura Che Come No Perché Appunto Avremo Anche Il Dark Bannisher Fu E Una Carta Che Ha Dual Attack Ha Una Permanent Che Dice Se Il Leader Card È Un Machine Mutant Nero Quindi Il Nero Andremo A Incrementare Il Suo Costo Di Battle Card Sarà Al di Fuori Della Nostra Abilità Perché Avrà Un Costo Di 8 Quindi Potremo Attaccare Oltretutto A Un'auto Che Dice Che Possiamo Mettere Questa Battle Card Nella Drop Area E Quando La Battle Card Del Nostro Avversario Attacca Neghiamo L'attacco Quindi Un Ulteriore Negate Che Noi Abbiamo In Campo E Non In Mano A cui Il Nostro Avversario Dovrà Fare Riferimento Perché Oltre All' L'Unsabilità Del Leader Che Impedirà Poi Le Carte Che Costano 7 O Meno Di Attaccare Noi Magari Avremo Ancora Un Ulteriore Counter Non In Mano Ma In Gioco Ha Un'altra Activate Main Che Scegli 3 Black Battle Card Con Energy Cost Tra 3 E 7 Nella 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 Drop Area Mettile Al Fondo Del Deck Scegli Una Opponent Battle Ignoring Barrier E Mende All Warp Questa È Una Removal Fortissima Perché 3 Black Battle Card Nella Tua Drop Area Perché Il Nel Leader Appunto All' Activate Main Di Mettere Una Carta Sotto Di Lui Macinare Uno E Poi Andare A Pescare Una Carta Le Altre Carte Appunto Sono Tutte Più O Meno Carte Che Ci Serviranno Per O Macinare Dalla Aumentare La Nostra Drop Area Oppure Giocare I Nostri Ghost Warrior Ad E Dottor Lice Quando Viene Messo KO Scegli Un Ghost Warrior Lo Giochi I Nostri Ghost Warrior Invece Sono Delle Carte Molto Forti Io Partirei Da Ve Leggo Molto Brevemente Partiamo Da Freezer Freezer Come Tutti Ha Questa Activate Main Che Dice Che Se Il Tuo Leader E Un Black Machine Mutant Scegli 3 Black Battle Car Car Con Energy Cost Between 3 And 7 Quindi Fra 3 7 Dalla Drop Area Le Metti Al Fondo Del Deck E Giochi Questa Carta Gratis Quindi Tutti I Nostri Ghost Warrior Potranno Essere Giocati Gratis Perciò Distrugge Quella Che La Meccanica Del Min Di Jan Trocare Carte Senza Pagare Il Loro Costo Questo Ghost Warrior In Particolare Poi Ha La Sua Activate Main Che Di Metterlo Nella Drop Area Scegliere Una Carta Ignorando Barriera E Metterla In Rest Mod E Una Carta Che Ci Permetterà Di Fare Controllo Dei Blocker Dell' Avversario Ma Anche Di Battle Car Tipo Il Costotto Del Mazzo Di Blue Verde Che 5.000 Che Potrà Essere Attaccato Magari Dai Nostri Pezzi Più Grossi Anche A Che Stesso Il Fatto Che Appunto Queste Carte Si Riciclano Fa Si Che Noi Nella Drop Area Probabilmente Avremo Sempre 3 Battle Black Battle Card Da Poter Macinare Per Poter Giocare Questi Pezzi Gratis Abbiamo Poi Cooler Che Il Fratello Di Freezer Ovviamente Che Cosa Fa Stessa Cosa Però Nella Sua Activate Battle Questa Volta Non Main Lo Manderemo In Drop Sceglieremo Una Battle Card Dell'Aversario Gli daremo Meno 10.000 Lord Slug Stavolta Non Mantiene La Meccanica Di Controllo Umano Che Di Per Sè Della Meccanica Di Slug Ma Con Activate Main Mandandolo In Drop Area Sceglieremo Una Battle Card Del Nostro Avversario Servirà Appunto Contro I Mazzibroli Chain Contro La Chain Di Baby Contro Tutte Quelle Serie Di Carte Che Vengono Giocate Non Come Costo Ma Con Abilità Anche Le Match Eventuale Sia Le Meccaniche Di Gioco Del Blu Verde Prevedono Di Poter Riciclare Carte Dalla Droppare Ergo Con Questa Carta Le Andiamo A Togliere Quindi È Una Carta Che Potrà Essere Molto Forte Poi Abbiamo Ghost Warrior Che È Una Carta Molto Interessante Una Carta Costo 1 Che Dice Che Quando La Giochiamo Peschiamo 1 Poi Per La Durata Del Gioco Se Il Tour Player Andrà A Giocare Una Skill Di Una Batte Card Per Mettere Delle Energie In Active Mod Non Potrà Farlo A Meno Che Non Scelga 5 Carte Dalla Drop Area E Le Mandi Al Warp Questa È Una Carta Che Andrà A Bloccare Tutte Quelle Meccaniche Di Switching Energy Di Attacco Cioè Il Senso In Attacco Molto Interessante È Una Carta Che Può Essere Giocata In Tutti I Mazzi Perché Non Richiede Un Leader Preciso E Secondo Me Può Essere Un' Ottima Carta Poi Abbiamo La Nostra Super Combo Sempre Ghost Warrior Kowazu Sempre Una Carta Della Meccanica Del Mazzonero Se Una Carta Black Machine Mutant Riduci Il Costo Di Questa Carta Di Due Quindi Costerà Uno Activate Main Ma Ci diamo Uno Quindi Aiuterà La nostra Meccanica Di Gioco Gratis Del Ghost Warrior E Di Riciclo Metti Questa Carta Nel Droppare Pesca Uno Quindi Andremo A fare Un Ulteriore Riciclo Di Carte Poi Abbiamo Una Carta Importantissima Per il Mazzo Che Dark Planet Quando Viene Messo Nella Batterare Scegliamo Ghost Warrior Dal Se il tuo Nostro Leader Ovviamente È un Black Machine Mutal Alla fine Del turno Maciniamo Due Quindi è una Carta Che ci andrà A aiutare Moltissimo A giocarci I nostri Una Carta Costa Uno Oltretutto Aiuterà Moltissimo A giocare I nostri Ghost Warrior Poi abbiamo L'Ultimate Blow Scegli una Delle Battle Carte Per Nel 10 Mila Revenge Fortissima È una Counter Play Che Ci potrà Servire Per il Nostro Blocker Per altre Carte Dopodiché Abbiamo Una serie Di carte Tra cui La terza Secret Del gioco Che sono Le Le nostre Noble Hero Rare Or Villain Hero I Noble Villain Rare Di cui Voglio Parlare Un po' Un attimo Tutti Insieme Adesso Le vorrò Vedere Magari Dopo Andiamo A vedere La nostra Secret La nostra Secret È una Vratta Devastante Riduci L'Energy Costi Questa Carta Nella Nostra Mano Di Uno For each Battle Card Nella Drop Area Quindi Con questo Mazzo Avremo Una quantità Di Battle Card Nella Drop Area Infinite Perché Continuiamo a Reciclarcele Andremo a Mettercele Eccetera Cosa Dice Activate Battle Alla Fine Del turno Scegli tutte Le Battle Che Ignoreranno Barrier E Mettile Nella Drop Area Vratta Bucco Nero Bucco E' una carta Che può essere usata In qualsiasi Mazzo Perché Costa 7 Ma è nera Sostanzialmente Quindi Non ci sarà Bisogno Di Un vero e proprio Meccanismo Per giocarla E' una carta Che fa molto Contro Se non abbiamo Una secret Da inserire Nel mazzo In blocco Perché no Possiamo giocare Questa Assolutamente E' una carta Che fa Contro E' una carta Che ci può Servire In qualsiasi Situazione Per toglierci Un attimo Dalle brutte Situazioni In cui siamo Finiti Perciò Una carta Molto Cioè Bivalente Andiamo a vedere Tutte insieme Le nostre Villanzean Come si dice Heroes card Abbiamo Beerus Queste sono Sostanzialmente Le carte La rarità Speciale Diciamo così Di questa Espansione Abbiamo Beerus Che dice Villanus Quando un'altra Villanus card Cioè Battle card O Villanus extra Card Viene attivata Il tuo Oppone Sceglie una Carta Dalla Sua mano E la Mette nella Sua Droppare Quindi Scarterà Uno Questa Carta In particolare Dice che Quando la Giochiamo Scegliamo Un Beerus Nel nostro Droppare Con un costo Tre O più E lo Aggiungiamo Alla Nostra Mano Se abbiamo Cinque Meno Carte Peschiamo Pure Uno Quindi Arriveremo A cinque Carte Oppure Ricicleremo Un Beerus Una Carta Molto Forte Che per Costare Due Energie Fa il Suo Dovere Quindi Nel Mazzo Di Beerus Sarà Abbastanza Utile Android 21 Questa Ha sempre Villanus Che è questa Piccola peculiarità Delle carte Villanus Eeroiche Le Villanus Andranno a far Scartare Uno Le Eroiche Ci faranno Pescare Uno Scegliamo Una Carta Nella 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 Quando giochiamo Questa Costi Quattro O Meno Questa Ovviamente È una 20.000 Costo 4 Dottor Weero Per il Verde Sempre Costo 4 20.000 Sempre Villanus Quando lo Giochiamo Scegliamo Un Frianzed Warrior Nella 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 Questa Carta Quindi Potremmo Giocarlo A 2 Invece Che A 4 Anche Questa È una Carta Abbastanza Forte Per il Mazzo Del Dottor Weero Poi Abbiamo Super Baby 2 Questo Baby Qua Nel Mazzo Si e No Nel senso Può Essere Giocato Come No Non So Se Probabilmente Dovendo Sostituire Partendo Da un Ipotetica Lista Che C'è Già Sui Vari Siti Da Qui Suo Spazio Vedremo A Critical Villanus E Quando Il Tuo Leader Attiva Awaken Wish Quindi Quando Si Risveglia Prende Dual Attack Più 15 Mila Diventa Un 30 Mila Dual Attack Forte Però Non So Quanto Spazio Potrà Trovare Questa Invece È Una Carta Molto Forte È Una Extra Card È Un A Villanus Ovviamente E Scegli Un Qualsiasi Numero Di Carte Con Costo 4 O Meno Che Arrivino A 4 Sostanzialmente E Le Mandiamo Al Warp Quindi Contro Vanilla È Un Ulteriore Aiuto Non È Detto Che Il Nostro Avversario Le Abbia In Campo Quindi Potrebbe Anche Non Essere Sfruttata Al Meglio Come Carta Però Comunque Io La Reputo Abbastanza Forte Andiamo A Vedere Nobel Hero Rare Vegeta Costo 4 Che Però Può Essere Giocato A Eroic Tutte Le Sue Cose Del Pescaggio Stessa Cosa Per Villanos Ma Invece Che Far Scartare Un Avversario Come Dicevo Prima Pescheremo Uno Activate Main Scegli Una Red Bulma Nella 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 Batteraria La Mandi In Fondo Al Mazzo E Giochiamo Questa Carta Poi Scegliamo Una Carta Che Ignorando Barrier Diamo Meno 10 Mila Quindi Una Carta Abbastanza Forte Perché Andremo A fare Un Men A Una Carta D'Aversario E Un Più A Darci Un Attacco Una Battle Card A Noi Poi Abbiamo Son Goku Che Non è Super Saiyan Al contrario Di Vegeta Sempre Heroic Activate Main Scegli 3 Token Stavolta E Lo Giochi Quindi Anche Questo Due Blu E Due Normali Scegli Un Qualsiasi Numero Di Battle Card Nella Tua Energy Area Comba Con Loro Con Questa Carta E Questa Carta Prende Triple Strike Quindi Un'abilità Abbastanza Forte Sempre Per La Questione Del Fatto Che Il Nostro Avversario Dovrà Tenerne Conto Se Noi Abbiamo L'Energia Per Poterlo Fare Perché Un Triple Strike Non È Da Poi Abbiamo Piccolo Sempre Eroic Questa Volta Un 20 Mila Con Questo 4 Critico Una volta Per Turno Scegliamo Una Battle Card La Mettiamo Nella Nostra Drop Area Scegliamo Una Delle Battle Card Dell'avversario La Mandiamo A KO Poi Il Nostro Avversario Sceglierà Una Carta E La Manderà Su Drop Quindi Questa Carta Sarà Abbastanza Control E Ci Permetterà Di Fare Sostanzialmente Più Meno Chiamiamolo Così Sia Sul Board Che Nella Mano Dell'avversario Poi Abbiamo Super Saiyan 4 Son Goku Prideful Hero Costo 3 15 Mila Barrier Sempre Eroico Ha una Permanent Che Può Essere Solo Uno Perché Quando Il Tuo Leader Attiva Awaken O Wish Questa Carta Prende 20 Mila E Double Strike È Una Carta Forte È Una Carta Che Appunto Anche Questa Non So Se Troverà Spazio Nel Mazzo Trovo Il Fletto Giallo Però Ci Potrebbe Stare E Poi Abbiamo Invece Che Lo Strike Appunto Quello Di Yachok Abbiamo Il Nero Eroic Strike Nero Costo 1 Una Permanent Che Dice Che Guadagna Eroico E Ha Un Activate Battle Perché È Una Extra Card Che Dice Scegli Con Costo 2 O Meno E La Mandica Po Quindi Andrà A Togliere O Un Eventuale Combo Power Sul Board Dell' Avversario Oppure Comunque Potenziare Il Nostro Leader Bene Queste Sono Le Carte Di Malicious Machination Spero Di Avervi Dato Più O Meno Un'idea Dell'Espansione Credo Che Il Meta Si Svilupperà Appunto Sui Leader Baby Androide 21 C18 E Nero Assolutamente Nero Probabilmente Sarà Un Mazzo Da Tenere D'occhio Perché Fa Molto Control Permette Di Resistere Agro Cosa Che In Questo Gioco È Fondamentale E Dà La Possibilità Di Accedere A Delle Carte Molto Forti Altri Consigli Che Mi Sento Di Darvi E Non Sottovalutate Mai La Potenzialità Che Possono Avere Alcuni Leader Giocati In Esteso Anche Se Siamo In Blocco Perché Perché Magari Con Qualche Piccola Modifica Noi Riusciamo Comunque A Tenere Una Build Sostenuta E Che Comunque Possa Essere Competitive Perché Ovviamente La Build Di Baby Assolutamente Non Sarà Come Quella Del Del Formato Esteso Però Comunque Sarà Performantissimo Secondo Me Idem Bulma E Beerus Saranno Due Leader Molto Giocati E Dall'altra Parte Abbiamo Il Nero E Il Blu Verde In Italia Il 14 E 15 Ci saranno I Pre-release L'uscita D'espansione È Il 20 Dicembre Se Non Erro Effettiva Quindi Mi Raccomando Nei Pre-release Giocate In Vostri Negozi Comprate Il Materiale E Questi Mazzi Nei Prossimi Video Probabilmente Faremo Già Qualche Ipotetica Build Adesso Vediamo Ho in Mente Di portare Appunto Questo Mazzo Mononero Che Non Sarà C'è Però Un'altra Versione Vedremo Come Potrà Andare Avanti La Situazione Io Vi Ringrazio Come Al Solito Lasciate Un Like Iscrivetevi Al Canale Se Non L'avete Ancora Fatto E Al Prossimo Video Ciao